Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla terza fase della puntata numero 8 del club della scommessa. Dovevano pronosticare con un commento 7 partite a testa dei campionati principali, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 9,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 11 marzo. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le ore 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà a questa fase del club della scommessa numero 8. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante è Francesco Buono, che ha pronosticato Ren Can 1 a 1,55, Marsiglia-Nizia 1 a 1,60, Strasburgo-Lyon gol a 1,75, Borussia Dortmund-Stockard over 2,5 a 1,50, Atletico Madrid-Leganes 1 a 1,45, Barcellona-Vallecano no gol a 1,80, Newcastle-Everton 1x a 1,47. Andiamo avanti e vediamo. Troviamo Cosimo Colucci, che ha pronosticato Inter-Spal 1 e over 1,5 a 1,60, Spal-Sampdoria-Atalanta over 2,5 a 1,71, Fiorentina-Lazio gol a 1,66, Bologna-Cagliari gol o over a 1,69, Venezia-Palermo-X2 over 1,5 a 1,79, Chelsea-Wolver-Hupton 1 a 1,53 e Real-Valladolid-Real Madrid 2 a 1,45. Poi abbiamo Giuseppe Di Benedetto, che non ha pronosticato le proprie partite, dunque viene eliminato da questa fase. Le partite pronosticate sono 7-14 e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per i due partecipanti sarà un tablet 4 giga di RAM. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indoveneranno tutti i propri pronostici, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!